buonasera buonasera a tutti bentrovati leggete già il titolo oggi parleremo di 10 final girl quali sono le vostre final girl le vostre scream queen le vostre beniamine tutte donne tutte al femminile dei vostri film horror tra poco dovrebbe entrare in diretta Giuseppe Cozzolino di Prometheus Lab, anzi della pagina Prometheus scrittore, giornalista, docente che ci parlerà delle sue 10 final girl preferite vi dico già che ci sono molti nomi che voi già conoscete vi dico solamente due nomi tra questi Gianni Clayton e Gemini Curtis madre e figlia allora già lo vedo già lo vedo e ti invito eh ti invito Giuseppe arriva Giuseppe mi sentite? io ti sento benissimo tu mi senti? sì 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 anche se anche se il mio microfono ha deciso di farsi sentire solo da un lato vabbè fa niente ti sento forte e chiaro comunque io ti sento benissimo innanzitutto buon 2021 eh sì appunto abbiamo cominciato con qualche piccolo acciacco perché praticamente mi vedi un po' reduce da qualche fastidio lombare e diciamo così di sciatalgia vabbè però vabbè è l'età è l'età è l'età è l'età considera che io ho ho praticamente tutti di più ho ho tutti i sintomi dai quando c'hai i dolori al collo sbandamenti c'ho di tutto insomma la cervicale è sempre in agguato mamma mia vabbè vabbè no guarda purtroppo complice anche questa ondata di gelo che purtroppo credo abbia è improvvisa eh esatto abbia inguaiato parecchie persone diciamo così assolutamente assolutamente ma la voglia vabbè parliamo di cose più piacevoli l'olor non muore mai ma quello sicuramente e appunto parliamo di cose più piacevoli dai che è meglio assolutamente sì allora avevo appena pronunciato che oggi parleremo delle scream queen delle final girl tutte a femmine belle tutte donne che si sono salvate che hanno fatto saghe e saghe molte non hanno fatto saghe ma hanno fatto film cult celebri che sono rimasti che sono rimasti nella storia sì e dieci scelte da te le tue preferite io ho letto questo post su facebook di Giuseppe che commentava e ho detto ma scusa ma perché non parliamo di final girl no? perché io yes e ha detto perché no lo sai che lo stavo pensando anch'io ho detto Giuseppe e quindi via eccoci qua piccolo off topic te ne vai via Tania sei molto bella stasera eh grazie telepatia grazie telepatia non si può dire lo stesso nel tuo ospite sotto in pietra no vabbè che dici dai ok ok allora partiamo vogliamo partire partiamo alla grande partiamo subito immediatamente con il botto ok se io dico psycho Alfred Hitchcock tu dici eh ovviamente dico Janet Leigh esatto che a tutti gli effetti è diciamo così di un'attrice fra l'altro di in realtà di lungo corso olivudiano perché prima di interpretare questo capolavoro di Alfred Hitchcock era già una diva assolutamente acclamata protagonista anche di film di vari generi per esempio ne ricordo qualcuno eh una delle migliori versioni olivudiane di piccole donne eh l'infernale Quinlan di Orson Welles eh anche il grande Udini che era la biografia del celebre mago interpretata da colui che poi diventerà suo marito cioè Tony Curtis e a tutti gli effetti eh una diva che eh al di là della della sua diciamo eh incredibile eh capacità di entrare nel personaggio specifico Marion Crane eh che poi esce di scena diciamo in maniera imprevista perché all'epoca fu uno dei grandi colpi di scena presenti in in questo che ormai credo sia conosciuto a memoria da qualunque dico anche cinefilo non solo appassionato di horror e di thriller quella scena della doccia che dura poco ma in realtà quanti ne hanno fatti di fotogrammi di prove assolutamente sì assolutamente sì e quindi al di là della straordinaria capacità e della formidabile diciamo così eh bravura di lei nel calarsi in questo personaggio ma ha anche detto che per l'appunto nel corso delle sue innumerevoli performance eh ha saputo esprimere eh davvero una varietà di interpretazioni che vanno dal dal ruolo anche della principessa in pericolo per esempio la ricordo anche in un altro film che se ricordo bene sempre con Curtis che è lo scudo dei fastworth che è un un film medievale hollywoodiano d'avventura in cui in cui lei fa la principessa in pericolo io cito a memoria quindi può darsi pure che dicono però sebbene ricordo lei me la ricordo credo degli anni sessanta credo tra moglie e marito sì sì credo credo eh perché poi io non è che sì ma anche c'è anche per esempio un'altra commedia sempre a fianco del marito chi era quella signora cioè davvero davvero una donna estremamente versatile bravissima nei ruoli dal drammatico al comico e poi anche in grado in più anche in grado di essere spregiudicata perché per l'epoca il ruolo che lei interpreta era anche abbastanza audace oggi magari sarebbe considerato una cosa da poter far vedere anche ai nostri nipotini cioè almeno da 10-12 anni diciamo certo all'epoca però all'epoca fu assolutamente una cosa spregiudicata addirittura anche in alcune sequenze lei era anche disponibile a girare senza vidi ma poi ovviamente per ragioni anche di pressioni della censura e dello studio non si arrivò a quel livello di spregiudicatezza però la sua formidabile versatilità si dipana in questo film e soprattutto però se lo si confronta a quello che ha interpretato nel corso di una lunghissima carriera che poi in più porterà anche a quello che poi tutti sappiamo cioè anche a una interazione con una delle sue figlie Jamie Ricartis all'interno poi di altri order di cui adesso parleremo poi magari quando andremo avanti nel nostro esplosso era una che si sarebbe messa addirittura a nudo senza reli per fare film e sto leggendo due righe sulla sua vita privata che un po' va a confermare in qualche modo la sua libertà la sua spregiudicatezza lei si sposa pensa quattro volte addirittura nel 42 all'età di 15 anni dichiarando di averne 18 perché altrimenti non si sarebbe potuta sposare e sposa appunto il 17 è John Carlyle o Carlyle dimmi se sbaglio Carlyle forse esatto è bravissimo perché io e l'inglese siamo due mondi opposti no vabbè no guarda che pure hai voglia e quanto sbaglio non ti preoccupare sei in buona compagnia no guarda però per me ecco sei in buona compagnia io conosco due lingue l'italiano e il romano tu quando te ne conosci l'italiano e napoletano esatto che adoro amo ok e poi il matrimonio fu nulla da quattro mesi più tardi questo non lo sapevo nel 46 19 anni sposò un altro uomo dal quale divorzò nel 49 nel 51 il grande sposò Tony Curtis appunto da cui ebbe Jenny e Kelly Curtis anche l'attrice e Curtis che ammise di averla tradita durante il matrimonio lasciò la povera Janet nel giugno del 62 subito dopo il loro rivoluzio si sposò per la quarta volta con Robert Brand accanto al quale rimase quindi alla morte è stata anche molto spregiudicata anche nella sua vita diciamo no cioè privata diciamo una donna una donna indipendente quindi in grado del resto e diciamo così una dinamica anche ricorrente nella biografia di altri grandi artisti non solo attrici ma anche artiste to good quello di voler fare delle scelte autonome anche per quel che concerne la vita privata quindi questo voglio dire è una cosa diciamo che contraddistingue tantissime straordinarie interpreti ed attrici quindi voglio dire premesso che appunto non è un discrimen perché poi ci sono anche magari altre che invece hanno avuto una linea di vita privata più diciamo inquadrata chiamiamola così ma è sicuramente un 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 aspetto della della personalità sicuramente frizzante sicuramente dinamica che che poi ha contraddistinto quindi anche la sua carriera artistica per l'appunto benissimo andiamo avanti ottima disanima vediamo un po' ci saluta ciao Elena Ilaria Raffaele ciao Eli ciao Pietro ciao Annalisa ciao Rugina ciao Rosi siete tantissimi non esco a dire di tutti Andrea Carlo Black Mamba ragazzi bene bene un po' alla volta allora passiamo ad un'altra grazie beh lei per me è tutto non so se la sai lei per me è un mito e parliamo di la Barbara Steele allora un mito un mito allora Barbara Steele allora innanzitutto in un cento di tempo Giuseppe pensavo quando ero piccola che già vedevo un film bianco e nero dell'epoca c'era solo praticamente c'era solo lei cioè da tutte le parti c'era lei allora guarda Barbara Steele attrice britannica che aveva fatto i primi passi nel cinema nel suo paese ma poi si trasferisce in Italia e poi viene scelta da Mario Bava ovviamente per la maschera del demonio che sancisce la sua notorietà anche a livello internazionale da un lato già l'anno dopo viene chiamata poi da Roger Corman per interpretare il pozzo il pendolo al fianco di Vincent Price e successivamente diventerà da un lato anche la regina del gothic horror diciamo che Barbara Steele è il simbolo forse del gotico italiano così come Christopher Rio Peter Cushing sono i simboli del gotico inglese è la lady gotica esattamente esattamente e poi naturalmente però è una bellezza molto particolare che io personalmente pure apprezzo naturalmente e considero appunto effettivamente tra le donne più belle del divismo cinematografico degli anni sessanta e questa bellezza non poteva non sfuggire anche a Federico Fellini che poi la inserirà nel suo otto e mezzo quindi anche da questo punto di vista un percorso anche di artistico diciamo estremamente variegato fra l'altro credo anche tu conoscerai un po' di aneddoti che lei racconta raccontava in varie interviste hai lasciato poi tante interviste sì 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 che la che la che la che la invitavano addirittura a fare le sedute spiritiche che fra l'altro anche Fellini era quello che lei ha raccontato è vero è vera proprio è vera allora io ovviamente devo basarmi un po' su varie documentazioni e ritengo che fosse possibile perché praticamente anche anche Fellini era era un noto diciamo spiritista appassionato di questo di questa tipologia di occultismo e quindi diciamo che negli anni 60 se vogliamo appunto nella dolce vita basta vedere proprio quello che viene anche mostrato all'interno del della scena della dolce vita che poi viene parodiata da da Totò in Totò Peppino la dolce vita dove c'è la famosa seduta spiritica diciamo che lo spiritismo nella nella Roma degli anni 60 era anche una moda un modo di essere trendy quindi assolutamente lei era ovviamente associata a quell'immaginario e devo dire che però appunto lei in qualche intervista diciamo così sottolineava anche un certo fastidio perché a volte pure lei ha sofferto della stessa paura di tanti grandi divi come Sean Connery con 007 come lo stesso Cristoferli con Dracula di essere eccessivamente inquadrata nel ruolo della strega nel ruolo della donna fatale è vero un'intervista qualche anno fa vecchia che aveva già rilasciata da qualche anno dove lei diceva di sentirsi intrappolata nel personaggio perché l'ha fatto diversi personaggi ma sempre sullo stesso in qualche modo stile e si lamentava di essere cioè era grata di tutto ma si lamentava di essere rimasta inquadrata in un certo tipo di personaggio e quindi cercava sempre in qualche modo generi diversi da quelli appunto in cui la vediamo anche in questa foto in qualche modo premesso premesso che sì sì assolutamente poi infatti anche nell'armata Branca Leone voglio dire quindi si è poi scimentata in tanti ruoli diversi da questo punto di vista premesso che inevitabilmente per tutti noi per la maggior parte dei suoi fan lei sarà comunque la lady la scream queen del gotico italiano c'è poco da dire in realtà poi va anche sottolineato che su questa base David Cronenberg poi la chiamerà nel suo demone il demone sotto la pelle perché per l'appunto questa sua questa sua immagine ovviamente spingerà poi altri registi negli anni 70 a coinvolgerla in nuovi progetti quindi io me la ricordo anche per la mia paura di giocare che poi tra l'altro poi ricordiamo questo film peccato molto bello andatela per la rivedere fino a mia paura di Gio Dante c'era sempre lei sì sì assolutamente per me è sempre bella no 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 ma io ti ripeto sono d'accordo con te non c'è non c'è dubbio e ti ripeto è sicuramente fra le dire più belle più particolari più sensuali del cinema glamour degli anni 60 per così dire detto questo vogliamo passare al terzo assolutamente passiamo intanto 44 partecipanti ci dice marcos grazie a tutti ragazzi bene gena siete top grazie gena grazie siamo siamo top grazie grazie anche voi giuseppe pixelato ditecelo però sento bene la tua voce quindi vado avanti vado avanti allora un'altra attrice un'altra attrice eccola qua guarda un po' dei dannati vogliamo dire morta qualche giorno fa sì morta qualche giorno fa fra l'altro venuta a mancare qualche giorno fa il diciamo il Barbara Scigli è stata per tanti versi l'equivalente inglese di Barbara Stille due barbare in quanto ha partecipato effettivamente a molti grandi capolavori non solo del non solo dell'horror ma anche della fantascienza inglese appunto il villaggio dei dannati il suo diciamo primo film horror in Inghilterra è stato Psicus Catgirl che è un remake inglese credo che ne abbiamo pure parlato in una nostra precedente diretta il remake inglese anni 50 del bacio della pantera di cui molti ignorano l'esistenza perché molti vanno dal film con Simon Simon direttamente al film con Lakinski dimenticando questo che invece è anche una chicca ed è un film molto interessante anche per la presenza di Barbara è vero che ci sono la sua carriera in Italia Giuseppe? eh sì infatti stavo proprio per aggiungere questo dettaglio e ad esempio ci tengo a sottolineare che io che sono anche uno storico un curatore di un blog dedicato a Totò e autore appunto di saggi dedicati al principe di Arisata lei ha partecipato anche a dei film di Totò fra cui il celebre Totò Peppino e Furilegge dove lei interpreta il ruolo della baronessa che cerca di sedurre il giornalista interpretato da Franco Interlinghi quindi è davvero curioso questa cosa e tieni conto che io l'ho scoperto non troppo tempo fa perché sostanzialmente ricordavo che gli aveva avuto una lunga trafila in Italia prima di sbarcare poi di come si può dire di risistemarsi in Inghilterra ma effettivamente poi ho scoperto che ha distribuito la sua presenza ovviamente con piccoli ruoli con anche in alcuni casi singole compasse in tanti piccoli gioieri del nostro cinema anche comico anche di commedia italiana per esempio anche mio figlio Nerone con Alberto Sordi e tantissime altre piccole e grandi produzione perché alcuni con i film non li ho visti Suprema Confessione di Sergio Corbucci si leggo anche si ne ha fatti ne ha fatti no 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 paradossalmente paradossalmente lei ha avuto un inizio carriera proprio in Italia cioè proprio molto 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 presente in Italia con piccole cose ovviamente perché in realtà poi i ruoli da protagonista li raggiungerà in Inghilterra e soprattutto con i ruoli di genere fantaordo secondo te perché rispetto a Barbara Steele rispetto ad attrattrici di cui parleremo non ha avuto una filmografia lunghissima nel senso cioè ha avuto i suoi film però non ha avuto una filmografia lunga come tante altre attrici ma guarda allora lei ha lavorato anche in televisione fa altro io per esempio ricordo anche una sua partecipazione anche alla serie di Avengers a gente speciale e a tante altre serie britanniche degli anni 60 70 in realtà però ripeto sotto molti molti viste è qui in Italia che è meno conosciuta ma in Inghilterra e anche negli Stati Uniti è molto popolare ed è molto amata perché per esempio ha partecipato a film come Dracula Principe delle Tenebre che è il secondo film della saga di Dracula diretto sempre da Terence Fisher dove c'è anche una scena in cui lei da vampirizzata viene diciamo così impalata da un gruppo di monaci e questa scena è diventata è diventata cult anche per le implicazioni ovviamente erotiche eccetera eccetera e poi come ho detto interpretava un ruolo importante nel Villaggio dei Dannati che è un grande classico di Wolf Rilla bellissimo del genere fantascientifico così a tutto il capitolo che stavi visto il Villaggio dei Dannati assolutamente non il remake il primo guarda no il remake di Carpenter il remake di Carpenter va detto no ha un finale brutto ha un finale che è bruttissimo ma ma diciamo la prima parte è notevole anche la prima parte della versione di Carpenter però ovviamente è normale che io come te consigliamo ai nostri spettatori di vedere sempre la versione in bianco e nero e poi dopo passare a quella di John Carpenter altra cosa per esempio inoltre la sua partecipazione sempre per quel che riguarda i film della Hammer ha anche riguardato un altro film molto bello degli anni 60 che è L'astronave degli esseri perduti che è uno straordinario fanta horror che fa parte del ciclo del professor Quatermas che fa l'altro ciclo a cui tutti i grandi creatori di serie tv come X-File come Lost io ero rimasto a tre allora in realtà sono quattro se aggiungiamo anche un film per la tv uscito al cinema non l'ho visto ma in realtà devi sapere che di molti di questi film per esempio i primi due ci sono anche delle versioni televisive dove perché in realtà i primi due film soprattutto sono appunto nati come sceneggiati televisivi e poi riadattati per il cinema con attori diversi perché appunto mi pare allora se ben ricordo nella versione televisiva nella prima fase era Andrei Morel attore comunque conosciuto della Hammer che interpretava Quatermas mi perdonerà qualcuno se sbaglio perché ricordo io è uscito sempre a memoria quindi a volte confondo però vabbè anche perché sto rincoglione quindi vabbè comunque e quindi e quindi praticamente da un lato e invece nella versione per il grande schermo era Brian Donlevy il noto divo di Hollywood nella fase finale della sua carriera venne chiamato proprio dalla Hammer a girare questi Fanta Horror che poi in realtà lanciarono la grande stagione della Hammer che dopo aver puntato alla fantascienza si puntò appunto al genere fantastico diciamo e all'horror e al gotico praticamente quindi è questo il discorso Valdo a me piace anche il remake penso nonostante non possa sopportare Christy Hallen ah sì chi al villaggio dei dannati chiaramente sì 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 ah perché non sopporta l'attrice non sopporta l'arte la ricordiamo anche nel famoso cult che per me non è un cult senti chi parla ovviamente sto ridendo e sto prendendo in giro l'attrice sì allora adesso abbiamo parlato della madre da madre in figlia eccola qua ed eccola qua allora Jamie Lee Curtis allora allora Jamie Lee Curtis vabbè cosa dire di lei innanzitutto anche lei è un grande sex symbol degli anni 70 una donna anche lei straordinaria perché è un personaggio meraviglioso in tutte le interviste che ho letto di lei è una donna di straordinaria intelligenza cordialità e soprattutto vivacità cioè in grado assolutamente di dare un'idea di sé diciamo e poi di calamitare questo carisma di riversare questo carisma nei suoi nei suoi film che io poi la sento anche su Instagram ma lei non ha paura di nulla politicamente socialmente dice quello che pensa mettendosi contro anche una diciamo basta parte comunque di pubblico che insomma non è concordi con 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 la sua idea di appunto di politica di società e poi quindi complimenti a Gemini Cartis che tra l'altro pochi giorni fa poche settimane fa ha vinto proprio il premio come Scream Girl ma sì ma sì ma ripeto se non allora praticamente il suo volto è legato ad alcuni capolavori come Halloween e Fog di John Carpenter in più in più ovviamente una poltrona per due di John Landis la consacrata proprio nella Hollywood anche chiamiamola pure mainstream per così dire e in più poi le sue varie partecipazioni a film di varia di varia tipologia pensiamo a True Lies al fianco di Schwarzenegger e poi anche i recenti remake di Halloween anche se devo dire l'ultimo non è che mi abbia fatto impazzire apro e chiudo parentesi però dimostrano la sua straordinaria vivacità e la sua capacità Giuseppe Natale è passato da poco posso dire che l'ho apprezzata tanto nella commediola che ormai però commediola commediola è diventato un cat fuga fuga dal Natale io l'ho apprezzata tantissimo mi sono divertita tantissimo anche perché ci sono due attori lei e Tim Allen che io amo da morire quindi sì sì anche da questo punto di vista delle prove straordinarie insomma a dimostrazione del fatto che esattamente come la mamma Jamie Lee ha saputo alternare tragedie e commedia orrore e risate trasformandosi sia da vittima predestinata anche a carnefice in qualche modo a donna d'azione a donna forte con un'abilità che davvero è riscontrabile in pochissime in pochissime interpreti anche della Hollywood di quegli anni veramente fenomenale e figlia appunto d'arte abbiamo detto Tony Curtis da un lato che era molto orgoglioso di lei che anche nelle ultime interviste diciamo la citava continuamente ed era contentissimo della sua carriera e delle sue performance e ovviamente appunto Janet Lee che compare poi al suo fianco anche in Fogg e che per l'appunto in qualche modo crea una sorta di passaggio di testimone da Scream Queen a Scream Queen esatto per avere un attimino per dare anche un po' ai nostri utenti un'immagine oltre l'attrice ovviamente della donna che è Gemini Curtis o Curtis fare voi è un'attiva sostenitrice di ospedali per bambini dal 2008 una figura di riferimento presso il Children's Los Angeles Hospital e ha anche sostenuto l'apertura di una nuova struttura per l'organizzazione nel 2011 è stato ospite d'onore dell'unicismo galannuale della raccolta fondi Women in Recovery per le donne un'organizzazione no profit e poi è coinvolta anche nella Children's vabbè diciamo i bambini malati di Aids quindi devo dire che una donna che oltre a fare l'attrice oltre si dà molto anche per questi doni insomma solitane assolutamente assolutamente e appartiene sì sì o meglio per intenderci forse è meglio chiarire in teoria lo fanno quasi tutti però quelli che lo fanno davvero sul campo sono molti meno di quel che si crede diciamolo anche con un pizzico di polemica che come io volevo anche salvare ma Giuseppe ci è andato giù pesante con una frase che sembrava tutta ma ci è andato giù più pesante ma in fondo è la verità è la verità assolutamente 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 la migliore attrice attivista ah ecco vedi ce l'hanno scritto è attivista di grande spessore non l'avevo letto io l'amavo mi ha deluso ah Vallo dici perché ti ha deluso è bello sapere tutte le vostre opinioni assolutamente e adesso facciamo un salto indietro ma molto 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 indietro se vi dico King Kong è la scena mitica no? del grattacielo il primo King Kong quello dove si muoveva tutto così il film bianco e nero la prima urlatrice soprattutto cioè Five Ray guarda che foto ti ho trovato sì 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 meravigliosa allora Five Ray è anche una sorta di icona della Hollywood a 360 gradi diciamo già all'epoca assolutamente una diciamo una metafora del tema della bella e la bestia che per l'epoca fu anche considerata scabrosa perché appunto il film fra l'altro anche delle sequenze tagliate in cui si denota maggiormente l'attrazione erotica fra il mustro e la bella quindi e soprattutto è stata proprio la prima in qualche modo a forgiare proprio la tecnica dell'urlo come noi ormai lo identifichiamo nell'ambito di quella tipologia di personaggio ricorrente che poi è alla base del racconto e del cinema fantastico ma detto che un anno prima ma scusami Giuseppe Valdo ha voluto specificare no no era chi stiale è deluso Jamie Lee non mi deluderà mai e vabbè ha voluto proprio infatti mi sembrava strato vabbè ma comunque sia comunque sia allora Five Ray aveva fra l'altro però esordito in un film precedente tra l'altro degli stessi autori di King Kong La pericolosa partita del 1932 in cui appunto era una delle vittime predestinate del famoso Conte Zaroff non so se ricordi insomma la storia della pericolosa partita cioè fatto dal racconto di Richard Connell fatto dal racconto di Richard Connell cioè la storia di questo aristocratico russo che in un'isola deserta tra virgolette sperduta nelle mappe si dedica alla sua caccia era un gran cacciatore l'unica caccia in grado di risvegliare i suoi istinti è quella agli esseri umani e si dedica a questa caccia catturando i vari naufraghi che si infrangono diciamo sugli scogli di quest'isola con le loro imbarcazioni è un film molto bello anche quello con un tono di crudeltà e di horror che andrebbe riscoperto e Five Ray interpretava un anno prima di King Kong il ruolo anche lì della Scream Queen in qualche modo della della Survivor altro film che io vorrei citare sempre che ha reso comunque Five Ray a Scream Queen per eccellenza è la partecipazione nello stesso anno di King Kong alla Maschera di Cera diretto da Michael Cartiz il regista di Casablanca con Lionel Atville altro villain straordinario attore del cinema degli anni 30 molto utilizzato negli horror anche della Universal per esempio nel figlio di Frankenstein in cui interpreta il famoso ufficiale con il braccio il braccio il braccio di legno praticamente che poi parodiato anche da Mel Brooks in Frankenstein Junior e quindi e quindi anche in quel caso un ruolo importante che consacrerà in realtà sono questi tre i film che consacrano Five Ray Scream Queen assoluta dopodiché si dedicherà ad altre produzioni diventando a tutti gli effetti comunque una diciamo un'icona nella Hall of Fame di Hollywood leggo di lei gli ultimi giorni no? si dove il regista Peter Jackson che aveva intenzione di dare a Lavrai una piccola parte del suo remake King Kong la fece incontrare con Tommy Watts l'interprete che cercava il ruolo di Andaro e poco prima di rinnesso delle riprese purtroppo le condizioni della Lavrai si aggravarono e l'8 agosto l'attrice morì nel suo appartamento di Manhattan per cause naturali all'età 96 anni eh vabbè vabbè fu sepolta al cimiliero di Hollywood e una curiosità due giorni dopo la morte le luci dell'Empire State Building famose appunto del film furono spente per 15 minuti in sua memoria si un'altra citazione fu citata l'avrai nel musical teatrale The Rock and Roll Show e nella relativa trasposizione cinematografica dove il protagonista interpretato da Tim Kerry famoso Pennywise di anni 90 la indica come sua prima fonte di ispirazione viene infatti nominata dai due brand che lui canta appunto nel film come musical queste sono le curiosità che riguardano questa grande attrice che non dimentichiamo perché devo dire che è stata una 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 delle prime se non la prima veramente come dici te ad urlare a gridare mi ricordo queste immagini dove lei scalpitava se lo guardava mi ha mai miso la mano va detto va detto che va detto che per esempio facendo anche un raffronto fra i vari remake di King Kong perché anche King Kong ha avuto appunto il remake di Peter Jackson che hai citato e un precedente remake degli anni 70 diretto da John Guillermin con Jessica Lange in in questa versione nella prima versione Five Ray recita a tutti gli effetti il ruolo della vittima predestinata cosa che invece nelle due versioni successive anche forse un po' per rendere meno stereotipato il ruolo non avviene perché sia nella versione anni 70 che nella versione di Peter Jackson le due protagonisti finiscono alla fine con l'empatizzare col mostro quindi questa empatia che si crea con la creatura che poi è un tema ricorrente di tanto cinema anche horror contemporaneo se vogliamo assolutamente assolutamente Baldo ci dice sempre ecco della maschera di cera sì che non so che non so devo guardare assolutamente il remake con Paris Hilton no 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 ti prego risparmiatelo allora no no allora io dico una cosa ti dico una cosa io andai a vedere questo remake al cinema e ti devo dire la verità io mi sono anche divertito a vedere quel remake ma non c'entrava assolutamente nulla con la versione sia con la versione degli anni 30 e sia con quella degli anni 50 di cui parleremo fra poco nel nostro nella nostra galleria per così dire mi piace come tu cerchi di salvare tutto no ma è vero che mi diverti perché poi era divertente da vedere insomma era piacevole e anche perché poi Paris Hilton faceva una brutta fine quindi era divertente anche quella sì sarebbe bello invece che fare un film su un King Kong quindi un cinquanzia gigante fare con un chihuahua gigante visto che Paris Hilton è tanto amante a tanti chihuahua dentro casa e la vorrei vedere presa in bocca da un chihuahua che la porta di un chihuahua che la porta è divorata è vero può essere anche quella un'idea un'idea potremmo un attimo potrebbe essere un soggetto ah volevo scrivere che non si deve vedere stasera problemi di carezza ma vabbè io dico io dico sempre si può vedere ma dopo aver visto quegli altri assolutamente appunto no ma adesso a parte i scherzi si può vedere qualsiasi cosa anche a me quando mi dico ah ma tutti ne parlano male quel film ho fatto sì ma vedetevelo per darvi no perché no no ma sì no ma ti dico la questione è che questo remake diciamo è un remake con una grande produzione alle spalle in realtà c'era Robert Zemeckis tra i coproduttori perché era uno dei film della famosa della famosa serie Castel che era un omaggio proprio ai classici dei remake diciamo dei grandi classici il problema è che è un film talmente diverso da quello originale che effettivamente non ha niente proprio dal punto di vista del plot e però 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 si può vedere però è un film anche con un grande budget con delle morti scenografiche cioè quello molti appassionati di horror cercano anche quello solo magari un po' di scenografia allora un'altra grande attrice Debra Paget allora Debra Paget o Paget io non mi ricordo nemmeno come si pronuncia quindi io dico Paget perché scritto Paget però ditemi se spagno totalmente no no ma nemmeno appunto qualcun altro magari lo dirà perché nemmeno io sono sicuro io l'ho sempre chiamata Paget però non è sicuro tu sei stato ospite spesso a cinematografo di Gigi Marzullo si ti è mai capitato di sbagliare l'inglese io farei una figura ah ecco vabbè no problem vabbè allora allora quindi dicevamo allora Debra Paget è una figlia d'arte madre e fratelli tre fratelli attori e anche in questo caso noi parliamo di un'attrice che innanzitutto è stata un sex symbol straordinario perché interprete del interprete del di un famosissimo film di Fritz Lang il sepolcro indiano in cui fra altro in questa questo dittico di film girati da Fritz Lang in cui lei poi si esibisce in una famosissima danza del cobra in un costume all'epoca estremamente estremamente audace che metteva assolutamente in risalto la sua figura e la sua straordinaria fisicità e anche poi anche interprete di film western di film thriller cioè quindi una di quelle dive di Hollywood estremamente diciamo non specializzate nel genere horror ma estremamente versatili nelle varie interpretazioni noi però la ricordiamo innanzitutto sia per la sua partecipazione ai racconti del terrore di Roger Corman film a episodi tratti da Po che per l'appunto sono a tutti gli effetti dei gioielli che rilanciano e che spesso poi lanciavano anche attrici come la Baguette in questo tipo di dimensione dimensione gotica surreale onirica e poi soprattutto per la città dei mostri che è come molti di voi già stanno un adattamento in realtà di un racconto di Lovecraft lo strano caso di Charles Dexter Ward in cui la Baguette interpreta la moglie del protagonista Dexter Ward che è ovviamente Vincent Price e dove effettivamente dà una bella prova di sé anche sul versante della Scream Queen del ruolo di Scream Queen e del ruolo di Final Girl per così dire anche se appunto bella somiglia anche un po' Patrizia Pellegrino non so eh un pochino un pochino sì però però lei è meglio secondo me con tutta la simpatia per la Pellegrino e fidati dalla Pellegrino no poi no no assolutamente però io parlo da un punto di vista estetico eccetera comunque sia comunque sia anche lei un'icona sexy un'icona glamour che ha inciso in un certo immaginario cinematografico di tanti anni fa e che io quindi invito a riscoprire perché poi magari anche attraverso la riscoperta di queste figure noi riscopriamo anche un tipo di cinema dimenticato è vero ammetto ammetto la minoranza di tutti gli attrici di cui stiamo parlando adesso lei quella di cui parleremo tra poco le conosco veramente molto 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 poco avrò visto sicuramente dei film di cui non ricordo sicuramente però non ricordo le figure quindi è sempre interessante sapere sapere queste insomma queste figure che alla fine sono nella storia della cinematografia quindi assolutamente sì assolutamente sì come ho detto sempre come ho sempre detto è un modo per riscoprire le proprie radici cinematografiche assolutamente sì assolutamente sì philis kirk allora philis kirk è a sua volta se vogliamo una diva fra l'altro in realtà credo sia di origini danesi il suo vero nome era kirkegaard addirittura come come il famoso filosofo e e per certi versi è stata un'attrice antesignana delle delle dive non dive o antidive che abbiamo citato prima cioè come la cartis e come la stessa Janet Leak perché oltre ad essere l'attrice attivista per i diritti civili quindi esatto assolutamente sì quindi quindi anche lei fra l'altro più diva to cure di un cinema americano di genere che ha attraversato un po' le varie tipologie produttive del western al poliziesco interprete fra l'altro anche di una serie televisiva degli anni 50 ispirata al celebre uomo ombra Nick e Nora al fianco di Peter Loford ma soprattutto ed è questa la ragione per cui la citiamo assolutamente la Scream Queen della maschera di cera nella versione del 1953 con Vincent Price diretta da André De Tote e che soprattutto consacra ufficialmente Price nel ruolo di icona horror perché questo film poi lancerà definitivamente Price attore già popolare già noto però in determinate tipologie di produzioni olivudiane come vera e propria icona del genere horror e lei interpreta appunto la la giovane donna che poi finisce nel laboratorio del mostro anche lei fra l'altro in disabili e anche lei però appunto con una scena anche di un certo erotismo dove pur se si intravedono solo i suoi piedi nudi e le sue spalle c'è effettivamente una un allure potremmo definirlo estremamente forte e lei posso fare una fatturaccia Giuseppe a Roma ti dice che ci frega noi ci avevamo tolti i gol si diceva in campo sportivo io posso dire che ci frega noi ci avevamo calare a calamai assolutamente lei è stata la diva in questo senso in quell'altro ambito e quindi assolutamente sì e comunque anche in questo film lei esisce in mente in alcuni urli straordinari nel senso che veramente urli spacca timpani sia nella sia nella parte intermedia che nella parte finale del film assolutamente da ricordare assolutamente da amare almeno per noi cinefili ci ributtiamo in avanti anni 90 fa il primo film di una saga che poi diventa praticamente di successo Neve Campbell l'eroina Final Girl di Scream tra l'altro aspettiamo con ansia Scream 5 sempre con lei protagonista e con tutti gli altri lettori al seguito che hanno fatto con lei gli altri quattro capitoli Neve Campbell Allora Neve Campbell ha un trascorso strano nel senso che inizialmente le sue aspirazioni erano quelle di fare la ballerina poi anche a causa di un incidente cambiò repentinamente diciamo così orientamento e inizio a lavorare nell'ambito cinematografico innanzitutto prima di Scream io la ricordo con immenso piacere sia in serie tv come 5 in famiglia e soprattutto in una piccola produzione molto gradevole che è Giovani streghe un film del 1996 diretto da Andrew Fleming che a tutti gli effetti può essere considerata uno degli antesignani di quello young adult horror se vogliamo che poi vedrà anche in Scream poi vedrà in tante altre produzioni spesso firmate dallo sceneggiatore Kevin Williamson il loro il loro apice soprattutto però appunto dopo questa prima partecipazione a Giovani streghe in Scream lei raggiungerà sicuramente il suo maggior livello di popolarità in un film che a tutti gli effetti crea per così dire rompe innanzitutto se vogliamo molti degli archetipi dei luoghi comuni del genere horror slasher in modo particolare in un gioco ai rimandi cinematografici in un gioco degli specchi che ancora oggi è bellissimo da guardare la saga metacinematografica per eccellenza assolutamente sì e io devo dire sono affezionato a tutti e quattro i film anche se altri invece amano solo il primo magari forse il secondo io li ho anche già i precedenti diretti Giuseppe che è una delle saghe che regge regge bene regge meglio di tutte le altre saghe assolutamente è invecchiato bene è invecchiato bene è invecchiato molto bene e poi se vogliamo c'è anche un'empatia con tutti i protagonisti della saga cioè nel senso che sono tutti azzeccatissimi e quindi da Courtney Cox a David Arquette e sono diciamo alla fine sono diventati come appunto i protagonisti delle nostre serie tv del cuore sono diventati un cast fisso che noi amiamo rivedere quindi se ci sarà Scream 5 ben venga a me personalmente farà sempre farà molto piacere vedere anche se purtroppo non ci sarà più Wes Craven e speriamo che sia un buon e un bellissimo omaggio a Wes Craven perché no andrebbe bene anche se fosse un film come io ma definisco anche un film dignitoso va bene non deve essere per forza chissà che cosa un film dignitoso in memoria di Wes Craven giusto? assolutamente assolutamente sì ciao Gatto così lo saluto penultima star che io siamo scomparsa credo due anni fa Giulia Adams allora e anche in questo caso percorso classico se vogliamo di dive di Starlet di Hollywood vincitrice di un concorso di bellezza diciamo così poi partecipa a noir a thriller a film western a film d'avventura per esempio anche di cose no Giuseppe sto leggendo a 19 anni scusa questo te la levo sì venne letta Miss Little Rock eh sì sì appunto appunto perché e sarà la località e quindi no ma per dire quindi il percorso classico vittoria un concorso di bellezza e poi ingaggio a Donnywood come modella come attrice come comparsa e inevitabilmente noi la ricordiamo però principalmente per il mostro della Laguna Nera dove diventa l'interesse romantico del famoso Gilman di questo uomo apatico in una sequenza anche bellissima anche lì con delle implicazioni erotiche molto forti dove appunto quando nuota nuota e viene seguita dal mostro che sembra quasi abbracciarla praticamente e quindi con una serie di immagini che rimangono nell'immaginario fantastico e non solo fantastico di tanti cinefili e lei ovviamente con una figura meravigliosa anche lei una ragazza diciamo di una sensualità e di una e di una perfezione anche ginnica potremmo definirla notevole e che non aveva il classico corpo aveva proprio un corpo molto particolare la notatrice la notatrice e quindi assolutamente assolutamente interessante assolutamente diciamo assolutamente poi in grado di bucare lo schermo come effettivamente avvenne e tutti ma lei stessa nelle interviste era molto contenta di essere ricordata come la la vittima predestinata la scream queen del mostro della guna nera ecco a differenza di altre altre dive torniamo al discorso di base che alcune non amano essere identificate o con un singolo film o con un singolo genere lei invece amava questa cosa e lo ribadiva in tutte le interviste esatto che ha fatto sul genere insomma io l'ho lasciata volutamente per ultima sai di chi sto parlando perché era era mia amica avevo immaginato era amica di social ma era mia amica perché ci parlava molto spesso proprio in privato non sì ma io pure io pure ho scambiato un po' di chiacchiere con lei via social devo dire che è una grande scream queen a voi se lo è come no e basta guardarla in tenebre assolutamente parliamo naturalmente di Daria Nicolodi guardatela dite voi insomma tra l'altro Anna Lula nipote è identica guarda io sto guardando gli occhi una grande attrice che dire Giuseppe di tutto tu allora innanzitutto vabbè figlia d'arte nel senso che nasce cresce comunque in un ambiente anche artistico anche anche se il papà però era avvocato se ricordo bene e e sostanzialmente anche anche nel suo caso proprio come nel caso di Jamie Ricartis come nel caso di Janet Leigh una donna molto controcorrente molto indipendente molto volitiva delle dalle idee chiare poi anche capace di dividersi fra teatro e cinema con grande nonchalance poi amante della pittura amante dell'arte poetessa scrittrice sceneggiatrice della magia in tutto il suo aspetto esattamente esattamente anche ispiratrice delle tre madri bravissima bravissima quindi veramente una figura versatile ed è un bel modello femminile diciamo di cui di cui tener conto e ovviamente noi la ricordiamo innanzitutto per il suo ruolo in profondo rosso il ruolo di Gianna Brezzi che però appunto lei in qualche modo vivacizza anche con un tocco di autoironia che non è da poco e poi ovviamente musa ricorrente di altri film di Dario Argento che per l'appunto l'inferno tenebre esattamente fenomena dove fa la parte diciamo dell'assassina in qualche modo esatto fa un po' tutto dalla final girl o final woman come intendi in tenebre all'assassina di fenomena assolutamente alla vittima in inferno insomma devo dire che è fatta e anche poi anche poi chiamata da Mario Bava sia per quello che sarà il suo ultimo film shock anche se in realtà l'ultimo film è cani arrabbiati comunque quell'ultimo film trasmesso diciamo ufficialmente nelle sale cioè programmato ufficialmente nelle sale e anche nella venere di il diciamo nel film televisivo tra l'altro quando è morta il giorno che è morta Giuseppe io feci una diretta che per me era molto difficile devo dire la verità insomma è stata molto tosta e tra le varie curiosità che ho detto che lei mi raccontava lei mi ha raccontato due volte in realtà perché la prima volta me l'ha detto la seconda volta non si ricordava che me l'aveva detto dove dice che a parte lei e Mario Bava erano amici veramente molto molto amici molto stretti e fu lei a chiedere a Mario Bava di intervenire nel film Inferno in due o tre occasioni Inferno naturalmente dove si parlava dove si parlava di Mater Tenebraru per mettere degli spedienti e la scena in cui si vede la luna col ponte dove poi c'è uno degli attori che muore mangiato dai topi quella scena lì che si vede con la luna è stata fatta proprio da Mario Bava compreso lo specchio finale dove la morte sono tutte a Mario Bava ma grazie all'intervento di Dario a Nicolodi l'aveva chiesto gentilmente a Mario e Mario gli rispose Dario per te questo è altro Sì perché poi sappiamo anche un po' la rivalità ne abbiamo pure parlato fra Bava in realtà forse più da parte di Argento che non da parte di Bava che era appunto l'abbiamo già detto uno che si prendeva più la prendeva più a ridere un po' secondo me in questo senso anche Dario era così cioè che era molto molto anche autoironica io ricordo l'unica cosa che mi piace sempre ricordarlo l'ultima volta che abbiamo scambiato due chiacchiere su Instagram fu quando io le mandai la notizia dell'uscita del mio libro su Totò La paura fra 90 lei era una grande appassionata anche di Totò e mi disse assolutamente lo vado a comprare e voglio assolutamente leggerlo dopodiché però purtroppo non ho avuto più sue notizie ho avuto solo la notizia poi della sua di partita e mi chiedo sempre mi sto chiedendo ancora adesso chissà se nel frattempo in estate in estate ci sentimmo chi lo sa se effettivamente lo compro e lo lesse sarebbe stato molto carino avere un suo parire assolutamente assolutamente sì ammazza sembra che abbiamo iniziato due minuti fa è già passato devo dire che il tempo è tirato steppe sai che questa è la settimana del televotos del televoto su horror d'orrore stiamo votando il peggior abbiamo già votato il peggior film horror del 2020 a fine settimana vendreddi sabato e domenica voteremo voteranno i nostri utenti ma voteremo tutti quanti insieme il miglior film horror del 2020 oggi e domani si sta votando per il movie on demand cioè il film horror su piattaforma Netflix Amazon Prime migliore dove dici sarà il premio della critica dato ovviamente da una giuria che abbiamo noi scelto e non so hai visto Fantasy Island dal cinema tu quello del 2020 no purtroppo no purtroppo non ancora sono indietro perché ha visto il peggior film horror del 2020 proprio ieri esatto quindi voglio sapere se c'era una tua no no vabbè ma la cosa divertente come avrai già spiegato come sapranno già i nostri amici in realtà si tratta di un remake horror di una famosa serie televisiva che in realtà era una serie fantasy anche molto gentile molto carina ha preso una barca dei voti ha preso una barca dei voti meraviglioso vabbè ma scherza coi coi scherza coi fanti ma lascia stare i santi si vede che erano tutti indignati per la serie televisiva ti dico due candidati invece come miglior film horror del 2020 che già sono in finale perché noi faremo due semifinali venerdì e sabato ma domenica ci sono già due posti occupati su quattro e i due posti occupati sono L'Uomo Invisibile e The Lighthouse hai visto qualcuno di questi due film? L'Uomo Invisibile l'ho visto e non mi è dispiaciuto assolutamente anche quello diciamo una rilettura intelligente moderna ecco moderna un tentativo che appunto io apprezzo sempre un tentativo di riprendere un tema sempiterno però riadattandola a un contesto contemporaneo diciamo così quindi non male piacevole insomma assolutamente di Eggers quello manco sono riuscito ancora a recuperarlo perché devi sapere che sotto questo punto di vista sono spaventosamente indietro molto elogiato dalla critica perché in bianco e nero con due grandi attori però ha un po' spezzato il pubblico a metà perché noi Eggers lo ricordiamo per The Witch e molti dicono opera straordinaria sublime altri dicono oddio è cascato non si capisce niente è meglio quando facevate The Witch tra l'altro ricordiamo che Eggers dovrebbe tornare all'opera risfornando non sperato attenzione quindi non sperato non sperato quindi vedremo che cosa accadrà con questo regista che ci ha dato delle gioie come insieme ad Ari Aster e Jordan Peele vediamo se Eggers riuscirà a fare qualcosa però in realtà non l'hai visto e quindi vedete perché io sono in procinto di essere votati quindi vediamo quello che accadrà va bene Giuseppe io innanzitutto ti ringrazio ci vediamo il prossimo mese non so che cosa ci aspetta la diretta del prossimo mese vediamo che cosa uscirà fuori dal cilindro di Giuseppe perché è sempre una sorpresa poi è scelto così come abbiamo fatto questa diretta è stata molto bella mi piacciono le cose fatte quasi all'ultimo preparata all'ultimo invece sempre quindi chissà che cosa accadrà il prossimo mese ti ringrazio Giuseppe è stato come sempre un piacere veramente alla prossima ciao Giuseppe ciao ciao ciao